Elena Morali ha lasciato la casa di Scintilla. Crisi nera tra i due e i reality show uniscono o dividono. A grande fratello Vip Sicilia Rodriguez ha capito di non essere più innamorata di Francesco Monte, e l'ha lasciato in diretta televisiva buttandosi poi anima e corpo su Ignazio Moser la cui storia d'amore procede a gronfie vele. E che dire di Francesco Monte e Paola Di Benedetto? I due si sono incontrati all'Isola dei Famosi, si sono piaciuti, e hanno iniziato una frequentazione passionale. Una volta tornati in Italia le cose non si sono evolute, ma si sono deteriorate fino all'annuncio della loro rottura. Secondo Paola Monte non avrebbe ancora dimenticato del tutto Sicilia. Ma c'è un'altra coppia che a quanto pare sta passando un periodo di crisi nera. Si sta parlando di Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, spesso ospiti di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live. Secondo quanto riporta Sniepogo Sipi bene informati assicurano, che i due abbiano messo la parola fine alla loro relazione. Dopo aver rimandato le nozze adatta da destinarsi per via del caso mentale sopraggiunto dopo l'Isola dei Famosi, sembra che Elena Morali abbia deciso di lasciare la casa del comico di Colorado per intraprendere una strada del tutto diversa. Scintilla ed Elena Morali, storia al capolinea. L'ultimo gossip da quando Elena Morali ha deciso di rimandare le nozze con il fidanzato Scintilla e i fan della coppia, hanno cominciato a chiedersi, se per caso non ci fosse aria di tempesta. Ebbene l'ultimo gossip li vuole già single, separati senza possibilità di ritorno. Che la bionda showgirl abbia capito che ciò che vuole non è più il suo Gianluca Fubelli. I più maligni le vorrebbero interessata sentimentalmente con Marco Ferri, che sull'isola aveva definito un bellissimo ragazzo, anche se quest'ultimo non ha né smentito né confermato tali voci. Tutto è molto strano visto che pochi giorni fa Elena Morali si è detta più innamorata che mai di Scintilla, e che le nozze rimandate erano dovute soltanto a veghe di natura logistica. Chi indagherà sulla misteriosa situazione sarà sicuramente Barbara D'Urso, molto affezionata alla coppia, e chissà che non scappi un bell'invito a pomeriggio 5 durante il talk show in Rosa oppure a Domenica Live. Ultimamente sui loro profili social non sono stati pubblicati né scatti insieme né simpatiche stories. Un altro indizio, che avvalora il gossip dell'ultima ora? Espero, che avvalora il redo!